Oggi abbiamo sottoscritto un accordo molto importante con un grande attore industriale orgoglio dell'Italia, la Ferrero, che punta a rendere possibile la coltivazione di nuovi 10.000 ettari per la nocciola. Insieme all'ISMEA che garantirà l'efficacia e la qualità di tutto il processo abbiamo realizzato un altro passo verso un'idea di modello di sviluppo che scommette sul valore del territorio. E questa è una notizia molto positiva perché si rinnova la tradizione del Lazio all'agricoltura e diventa e rafforza un partner produttivo mondiale che tutti conoscono e che ha scelto nuovamente, perché c'è un'antica tradizione in Lazio per fare degli investimenti. Quindi è una bella notizia e soprattutto un altro segnale che le cose cambiano in meglio nelle nostre regioni.